Da sempre il gruppo Cariparma Credi Agricol sostiene arte e cultura. Abbiamo sponsorizzato il Festival Verdi, Pordenone Legge, il Festival della letteratura di Mantua e il Festival della mente a Sarzana, la mostra di Palazzo Farnese a Roma, Artemisia Gentileschi Arcimboldo a Milano, Filippino Lippi e Sandro Botticelli alle Scuderie del Quirinale e Ligabue alla Magnani Rocca.